Ciao a tutti paesano e amici, Quimpact qui, con Giochiamo, Fragolina del Locequare, avventura estiva. Vorrei solo dire che questi loop musicali sono sicuramente brevi e cattivi. Stai iniziando a disturbare il cuo e abbiamo ancora molto da fare. Ora vogliamo! È ora di raccogelire il gelato. Il numero al centro e il mio contenzio totale per l'avventura. Le sprite in questo segmento sono fondamentalmente portali dall'arte di produzione. Quindi crea uno sguardo strano. Le nuvole, livello di cielo nel mio gioco per bambini, Il livello del cielo sarà pieno di trappone. E qui continua a essere colpito. Voglio raccolire cosa ma è difficile schivare i raccoliri. Una carmela super salta? Questo mi farà uncedere. Ah! Non sono morto! Grazie al signore! Mi chiedo se Fragolandia abbia qualche tipo di divinita e Fragolina del Locequare la dia? Mmm... Dal momento che le è nel cielo tutto il resto? Quali sono questi bugar come le cose? Ah! Che piace davvero la pioggia. Significa che non devo inaffiare il giardino quel giorno. Mi permette anche di assorbire un po' di questa fraccia di montagna. La neitora è una cosa meravigliosa. Fragolina! Fragolina, por favore! Fragolina! Alcune persone credono che il suo nome sia Stella. Non ci sono prove. In questo gioco stanno accadendo cose strane. Ho una brutta sensazione per la parte successiva. che è solo una via di fuggita al cielo. E ciò è... Siccandere! Un morda! Ora siamo patenatore professionista di Tony Hawk. Accidente! È molto più difficile di quanto sembri. Non so com'è Drillo, ma i controlli sono passati da lenti a veloci in un perdioccio. Oh no! Ho separato troppo presto alla bomba alla ciliegia blu. Voglio scendere da questo giro salvagio. Foglia! 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 Tu deve procurarmi questi giochi blu. Che cosa sono? Sono alcune strane ulvoar blu. O sono i pali b gears? Non vedo l'ora di riavire Incita la montagna Sembra che sto Melirando Melirando In questo Doppio salto Truce e maletta Patinatore Il gioco mi sta facendo impasiti Che cosa? Goomdrops Sono il mio nuovo nemico Buono a non scorrere automaticamente? Che cosa? Siamo stati portati via a casa di pendolci Eppure mi manca un singolo ingrediente. Proprio, la resina è proprio accanto. Per fortuna, le ho preparato tutti questi succhi per noi dare cose che abbiamo raccolto. Non posso rigerarsiarti abbastanza. Tornando all'istante, all'indietro, ci teletransportiamo fino alla fine della mappa. Questo rende la cosa più facile per arrivare in giardino. Zenzarella, lei è qui! Beve di mele, forma qui quella roba satanica. Questo è un gioco per bambini. Allo giardino. Ora nel giardino che sono delle cose interessanti. Provo che sia facile sghiacciare i tre ingredienti principali. Ma in una ordine segreto. Acqua, fertilizzante, delocificante. Abbiamo bisogno di una pH di oggi livello 10. Per c'è qui e Fregolindia, le becce grandi ti rendono le ore bacca in città. Fregolindia non ha intenzione di prendere quella helam. Sì, non le ha grandi bacci da saprimire. Oltre cui vuole stupire zanzarera. Il metro rosa è doloceza. Deloceza. Il metro blu è come la salute. Come puoi vedere l'aspettore. Questo è tutto abbastanza semplice. Ho coltivato martili nella vita reale. Non è cosa difficile. Oltre che i sporli di martili sono installabili con il livello del suolo. Attualmente Quimpact ha viti e una patch di fregole che è esplosa quest'anno. Questo anno è molto gustoso. La bacca giala è difficile da coltivare. Tambiamo tornare a sorbeto. Possiamo arvici la prossima volta però. Prendendo della mele per più succo. Per chi è la mia torta preferita non ha un tianuto, un personaggio, mi piace il terramassù. Immagino che sarebbe il mio ose. Quindi questo è stato Quimpact con Gialchiamo Fregolina Delocequare Avventura Estiva. Non dimenticare di iscriverti, votare e commentare. Fregolina Delocequare. Che vediamo la prossima volta. Ciao!